Ciao, io sono Claudia Ravaschio, sono italiana, sono di Genova. Ho un figlio e tante esperienze alle spalle. Per quale motivo io ho iniziato a fare Faveo? Beh, intanto perché è una novità, perché sono molto conosciuta in Italia e volevo essere un esempio per le persone. Chiaramente all'inizio non volevo mettermi in gioco, perché sapete fare una dieta non è facile, ci devi essere con la testa, ma poi è una competizione, soprattutto è una competizione con te stessa e quindi ho accettato. All'inizio non è stato facile, perché insomma la gola ti attira qua e là, però poi insomma ho ripreso, sono molto contenta anche perché l'anno scorso mi ero già messa a dieta e avevo perso 10 kg, però poi mi ero un pochettino arenata e i chili non li avevo più persi. Quindi rifare Faveo, cioè per me è stata una soluzione veramente importante. Sono molto contenta, anche perché vi ripeto, con Faveo si sta veramente bene, la fame non te ne viene veramente molto, è poca, i prodotti non ti danno nessun problema, quindi è molto semplice e soprattutto hai dei risultati, quindi sono molto molto contenta. Io sono Claudia e Faveo è la mia soluzione. Grazie. Grazie.